...sporti di Scandicci, campionato nazionale paracolo femminile, 6 a 1, 30 giornata. Sono già arrivati nel ringraziamento. Grazie per la visione! ...sporti di Scandicci... ...sporti di Scandicci... ...sporti di Scandicci... La decisione della difesa fa il punto del 25 a 19 per la solidarietà. Dunque 25, 17, 19, 25, 25, 25. Adesso è perziare il favore della sabbia domenica. Ancora vincente. Adesso è il grande salvataggio di Enrico Mello. E' un grande salvataggio di Enrico. E' un grande salvataggio di Enrico Mello.